Vi presento le due scatole del software. A sinistra la scatola del software proprietario. A destra la scatola del software libero. Cominciamo dalla scatola del software proprietario. Ciao, sono il proprietario del software. Abbiamo oggi per te un'offerta speciale. Ok, ma prima di procedere con l'acquisto vorrei ispezionare il contenuto della scatola. No, non ti è permesso. Scusa, tendo a non fidarmi di una scatola chiusa. E tra l'altro sono un tipo a cui mi piace studiare le cose, quindi vorrei vedere veramente cosa c'è all'interno. No, non ti è permesso. Ok, e dopo che procedo con l'acquisto, il prodotto è mio, quindi ci faccio quello che voglio, quindi posso ispezionare. No, tu non sei il proprietario della scatola, siamo noi. A te è solo concesso utilizzarla in licenza. Ok. Ehi, cosa stai facendo? Stai cercando di scoprire cosa c'è all'interno? È illegale! È illegale! Ciao, sono il software libero. Ti è permesso vedere cosa c'è all'interno. studio questo, studio questo, ok, mi posso fidare. E se non mi piacesse questo pezzo e volessi cambiarlo? Beh, sei libero di cambiare tutto ciò che vuoi. E se non fossi in grado di apportare queste modifiche? Sei libero di chiedere a qualcun altro di apportare queste modifiche per te. Tra l'altro, esistono già sicuramente versioni modificate di questa scatola. Se volessi apportare ulteriori modifiche e non fossi in grado di apportarle tu stesso, basta chiedere. E senti, proprietario del software, se volessi apportare delle modifiche? No, non ti è concesso. Non ti è concesso nemmeno sapere cosa c'è all'interno, ricordi? Ciao software libero, e se fossi soddisfatto con te e volessi dare una copia ad amici, parenti e a chiunque? Non c'è problema, sei libero di farlo. Posso dare una copia a qualcun altro? No, solo tu hai la licenza di utilizzare questo prodotto. E il proprietario comunque rimaniamo noi, ricordatelo. Ciao software libero, adesso che abbiamo portato questa modifica, posso anche distribuire questa modifica ad altri? Ma certo, non c'è alcun problema. Ciao software libero, è vero. Ciao software libero, è vero. Pop produce live. Poi, postre grabbed qualcosa di usci e consiglio è un problema. Accordate ad adesso per l'inknowale. When we have enough free software at our...